Torna il concorso internazionale Francesco Paolo Tostia, la settima edizione voluto dall'Istituto Nazionale Tostiano di Ortona, la Regione Abruzzo e il Comune di Ortona. Interpretazione delle composizioni per canto e pianoforte del grande compositori abruzzese al Teatro Comunale Omonimo dal 28 novembre al primo dicembre. La partecipazione è aperta a cantanti lirici italiani o stranieri di età compresa tra i 18 e i 40 anni. L'iscrizione potrà essere effettuata online su specifica piattaforma del sito www.istitutonazionaletostiano.org entro il 16 novembre 2024. Ascoltiamo il Presidente dell'Istituto Nazionale Tostiano, Remo Di Martino. La novità è innanzitutto che siamo riusciti a fare il concorso, perché con il fatto che purtroppo l'amministrazione del Comune di Ortona era caduta con lei e anche era decaduto pure il CDA, abbiamo forse il rischio di non farlo. Il commissario ci ha rinominato e lo ringraziamo e facciamo questo concorso. Siamo alla settima edizione quadriennale, le novità sono che è aperto a tutto il mondo e che abbiamo uno straordinario parterre di giuria. Abbiamo Nazareno Carusi, abbiamo il maestro Tommina, abbiamo Eleonora Buratto, insomma abbiamo dei personaggi di livello internazionale e quindi siamo pronti ad affrontare questa bella iniziativa. Parliamo di Tosti, parliamo del più importante compositore dei primi del Novecento che è stato, come tutti sanno, l'Elton John, come l'ha definito Caprarica, dei primi del Novecento, maestro di canto della Regina Vittoria. Parliamo di chi ha scritto 500 romanze e di chi viene cantato in tutto il mondo dai più grandi tenori che ci sono nel pianeta. Grazie.